Rai dall'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Tagliato il cavo della sonda dell'ecocardiografo, lo strumento medico utilizzato per effettuare l'ecocardiogramma. Il fatto si è verificato ieri mattina, darne notizie il responsabile dell'ambulatorio ubicato al secondo piano del vecchio padiglione. Quando sono arrivato la porta era regolarmente chiusa, ma ho trovato il cavo della sonda tagliato, racconta il dottore Angelo Nocerino. Ho immediatamente fatto denuncia ai carabinieri. Ignari al momento i responsabili, non si comprende chi possa essere l'artifice di un'azione così deplorevole. Tempestivamente si è provveduto a fare manutenzione per rimettere in funzione l'apparecchio. Uno spiacevole episodio che il dottore ha così commentato. Credo che questo sia accaduto perché lavoro troppo e questo evidentemente dà fastidio a qualcuno.